Sta succedendo una cosa importante, l'evento è di quelli storici perché siamo riusciti ad ottenere l'ok per la realizzazione del mondiale studentesco di beach volley sia maschile che femminile che praticamente vedrà teatro la spiaggia Castello di Manfredonia dal 26 di maggio al 2 di giugno. Dal 24 al 26 Manfredonia ospiterà i campionati italiani di beach che non sono un evento secondario ma sono un evento anche di una grande importanza. Vedremo qui a Manfredonia tutti i ragazzi delle regioni d'Italia che si confronteranno. Il mondo delle istituzioni, l'autorità portuale alla quale va il mio ringraziamento, i concessionari dei lidi con i quali abbiamo anche fatto un protocollo di intesa, ovviamente i colleghi, i assessori e soprattutto Salvatore Zingariello. È un lavoro fatto di sinergie perché innanzitutto la bella location, questa nostra spiaggia Castello che è un bigliettino da visita per la nostra città. La cosa più importante che mi preme dire, e qui è un invito rivolto a tutta la città di Manfredonia, di partecipare tutti quanti alla cerimonia di apertura dei campionati del mondo che si svolgerà a Manfredonia in Piazza del Popolo dalle ore 21 alle ore 23.